Vittoria per l'Amen Scuola Basket a Rezzo nella prima partita di Coppa Toscana. Gli Amaranto superano al Palace Porta Estra il Colle Basket, formazione di Serie D per 72-49. Buona prestazione per il quintetto di coach Delia che verso la fine del secondo quarto allunga sugli avversari sfruttando le maggiori rotazioni a disposizione e una buona applicazione difensiva. A rientro dopo la pausa lunga il punteggio va dilatandosi a favore dell'Amen che chiude con il punteggio finale di 72-49. Produttivo l'impatto dei giovani Sturli e Gilardoni che hanno dato un buon contributo ai compagni e top scorer dell'incontro per gli aggettini Balsimini con 13 punti in doppia cifra con il già citato Sturli e Bianchi a quota 10. Tutta la squadra ha fatto vedere uno spirito battagliero, arma che tornerà sicuramente utile in un campionato che si preannuncia molto insidioso. Gli Amaranto torneranno in campo per un doppio impegno ravvicinato, giovedì alle 21 a Sinalunga, altra formazione di Serie D. Prima di ospitare al Palace Porta Estra, venerdì sera 8 settembre, sempre alle 21, il Costone Siena, formazione che l'Amen affronterà anche in campionato ed accreditata a un campionato di alta classifica. Giuseppe Delia ha dato l'impronta a questa squadra. Giuseppe, una bella realtà quella di oggi? Sì, allora sicuramente quello che ho chiesto nello spagliatoio ai ragazzi, che ho chiesto in queste due settimane, che quindi deve essere dato, come esempio, primis da me stesso, è stato proprio questo. Un'impronta, mettere un sigillo su questa prima partita perché questo deve essere il nostro marchio di fabbrica. Poi sicuramente i ragazzi ci hanno messo dell'oro veramente al 100% tutti, veramente tutti, per far sì che questo si avverasse. Quindi non soltanto strutture esterne ma anche una società veramente che ha l'intenzione ferrea di voler emergere. Sì, sì, come ho detto nella prima intervista di presentazione, questo si evince. La struttura fa la base di una società, le risorse sia economiche che sia di personale sono il secondo gradino. Poi gli ultimi gradini di questa piramide sono i giocatori, lo staff e poi in cima all'iceberg c'è il risultato in campo. Oggi abbiamo vinto una buona partita, però ricordiamo che era una partita contro una squadra di Serie D che si allenava da solo una settimana. Quindi oggi non siamo sicuramente i più forti e quando avremo un calo, perché fisiologicamente prima o poi ci sarà il calo, non saremo scarsi o non lavoreremo male.